E' stato estradato negli Stati Uniti il capo della banda criminale colombiana Clan del Golfo, Dairo Antonio Ussuga, conosciuto come Otoniel. E' accusato di vari omicidi, crimini legati al narcotraffico, estorsioni, traffico d'armi, formazione di gruppi armati e associazione a delinquere, capi di imputazione per i quali ha già ricevuto sette condanne. Il trasferimento è stato eseguito con la massima precauzione e l'operazione è annunciata con soddisfazione dal presidente colombiano, che lo paragona al noto narcotrafficante degli anni Ottanta, Pablo Escobar. Non si tratta solo del narcotrafficante più pericoloso al mondo, ma anche di un assassino di leader sociali e poliziotti, molestatore di bambini e adolescenti, uno dei criminali più pericolosi del pianeta. La cattura di Otoniel è avvenuta lo scorso 23 ottobre nella Colombia nord-orientale. La sua estradizione però è stata contestata da più parti della società colombiana, che sostengono la necessità di ottenere dal capo del clan del Golfo informazioni importanti per la giustizia. Voglio chiarire che una volta scontata la sua condanna negli Stati Uniti, ritornerà in Colombia a pagare per i crimini che ha commesso nel nostro paese. Nonostante le rassicurazioni del presidente, c'è chi, come l'ex ministro dell'interno Juan Fernando Cristo, teme che l'allontanamento istantaneo di Otoniel dalla Colombia sia un modo per coprire i suoi complici.